Consigliere Ragosto, finalmente 8 milioni e 6 sbloccati per il Lago Patria. Una notizia splendida che aspettavamo con ansia da molto tempo. È stato fatto un lavoro da questa amministrazione. In particolare ringrazio il sindaco Luigi De Magistris che mi ha dato l'opportunità di poter lavorare su tale tema, del consigliere Nicola Pirozzi, del consigliere dell'Area Nord e di tutto il consiglio metropolitano, perché finalmente la Regione Campania ci ha riconosciuto questo lavoro e finalmente ha sbloccato il flusso finanziario che c'era stato bloccato qualche anno fa per dare la possibilità di completare tutto l'iter che porterà alla realizzazione di questa grandissima opera che è la Circulago del Lago Patria. Un'opera che prevede una pista pedonabile, una pista ciclabile, la possibilità di poter accogliere scolaresche perché c'è anche un percorso naturalistico con cartelloni didattici. Quindi parliamo di una grande opera lunga circa 4 chilometri che sarà da volano per una valorizzazione e uno sviluppo dell'area a nord di Napoli e quindi la città metropolitana finalmente è riuscita in questa grandissima impresa. Con l'ingegnere Pasquale Gaudino che ha avuto un ruolo fondamentale affinché ciò accadesse, ringrazio, tra pochi giorni parteranno le convocazioni per la conferenza di servizi proprio dedica all'approvazione delle ultime autorizzazioni e subito dopo lavoreremo affinché si possa anche attuare l'esecutivo. Dopo l'esecutivo aspetteremo il bando e sono fiducioso che in pochi mesi, circa un anno, lo spero, possiamo anche iniziare i lavori. Grazie.